Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di VIP Review. Oggi vorrei presentare a tutti i fanatici di giochi di carte, o anche a chi ha semplicemente piacere ad avere delle carte personalizzate, in questo caso di Harry Potter e Avengers, questi fantastici mazzi da collezione gentilmente offerti da Alida Store. Guardiamoli nel dettaglio. Già dalla scatola ci rendiamo conto di avere tra le mani un pacchetto pregiato, con disegni e scritte in rilievo, accompagnate da un colore estremamente brillante. La preziosità estetica continua anche all'interno dello stesso pacchetto. Tanti personaggi che possiamo trovare all'interno del mazzo. Come jolly troviamo Dobby, l'elfo libero, Hagrid e Deathdiger. Poi c'è Neville, Luna e Piton. Poi abbiamo Sirius, la professoressa Megranit, Silente, Voldemort, Bellatrix, Malfoy e per concludere Henry, Hermione e Ron. Passiamo adesso al pacchetto degli Avengers, che è molto simile a quello di Harry Potter, sempre con elementi in rilievo e caratterizzato sempre da un colore molto brillante. Anche in questo pacchetto sono tantissimi i personaggi che possiamo trovare. Come jolly troviamo subito Loki e Thanos, Occhio di Falco, Valkyria e Capitano America. Poi troviamo Hulk, Scarlet Witch, Black Panther, Thor, Black Widow e Star Lord. Per finire abbiamo Iron Man, Capitan Marvel, Spider-Man. Alida Store è il negozio più fornito di carte che conosco, per cui andate subito a prendere le vostre preferite. Io vi saluto, vi ringrazio, se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un like, un commento e a seguirmi sul mio canale. Ciao! Ciao!